Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati ancora su Brawl Stars Oggi, allora, questo episodio lo sto registrando ancora a seguito di quello che avete visto ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, secondo me, quando li caricherò Quindi se avete dei soprannomi da darmi per i miei nostri personaggi, scrivetemi nei commenti così io mi posso divertire a dare dei nomi giusti che suggerite voi ai nostri personaggi Detto questo, sono i miei primi di partire dal video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti per il supporto che state dando a questa serie, spero che comunque questi episodi vi piacciono Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, sia su Facebook che su Instagram e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo con i link che trovate in descrizione Detto questo, partiamo con il gioco Ok ragazzoli, allora, noi dobbiamo andare a cambiare il brawler, perché voglio il pistolero Il nostro, il nostro, little Tony, ecco, il nostro little Tony dei poveri, ecco E andate a fare una raffaggenda con il nostro little Tony C'è la capigliatura, e chi non conosca il little Tony, signori miei, è un cantante degli anni passati Lo potete cercare su internet e lo trovate, scrivete il little Tony E vedete che aveva questa capigliatura così, molto, molto strana Allora, recuperiamo subito la gemma, recupero, beh, ho la presa lui, va bene, va bene E io sono già morto, ma porca miseria, ma il pistolero è proprio così, cioè muore subito Andiamo due gemme però, due gemme per la squadra blu Dai, 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 non morite, non morite, raga, tre gemme Tre gemme, devi stare in difesa, te devi stare in difesa, zio Cioè, tre gemme, sei importantissimo Recupero un po' di vita, recupero un po' di vita e siamo messi male Ok, una l'ho presa io, ok, ok Dai così, dai così No, occhio all'acido, occhio all'acido Anche noi tiriamo l'acido, però buona questa cosa Dai, 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 così Però siamo sotto di gemme Quello c'ha più gemme di noi, perché c'ha più gemme di noi quello? Ah, perché è morto il nostro compagno che aveva tutte le gemme, praticamente È morto anche quello lì Siamo due gemme, ai, 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 ai Io devo andare a ammazzare quello Devo andare a ammazzare quello, devo andare a ammazzare No, sono morto io, mannaggia, era morto, era morto Mannaggia a lui Mannaggia a lui, era morto Però c'è ancora il super colpo, va bene Il super colpo è importante C'è la... riesce? Ah no, lui è con me Stavo sparando al mio compagno, signori miei Per farvi capire, dove sono quelli? Contro la rovescia, per il blu Contro la rovescia, per il blu Come contro la rovescia? Stiamo vincendo noi Non ci ho capito una sega, raga Però va bene, stiamo vincendo noi Stiamo vincendo noi Tu devi morire male Contro la rovescia ancora per il blu Dai, 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 mi recupera queste Ok, raga, ci siamo, ci siamo Siamo 13 a 0 Siamo 13 a 0 Non possiamo poter dare 10 9 8 7 Dai, dai, dai 5 Dai, 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 dai Occhio, 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 occhio 14 Dai, partita conclusa Alla grande Il nostro pistolero matto Il nostro Little Tony Ci riesce a portarsi a casa una vittoria Finalmente Ok Grande Little Tony Che sale al grado 3 Grande, grande Bella così, bella così Ok Mamma mia, quanti bei gettoni che abbiamo preso Ok Le coppe E ok, i gettoni Ok Io solamente, scusate, voglio andare un attimo in negozio Posso comprare dei punti Per il nostro pistolero 16 monete Sì, dai Compra Dai, punti di energia Così vediamo di farlo salire Per poterlo migliorare Perché sennò, dico Non, 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 non Questo non migliora mai Ok Andiamo anche per l'urso Yogi Dai Tanti soldi ce li abbiamo, raga Compriamo questi potenziamenti Dai Queste sono tutte così Tutte questi con i cosi verdi Che noi non abbiamo Questi nemmeno ci proviamo a avvicinarci Va bene Torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro Dai Anche il nostro messicano passo Chiediamo punti di energia Va bene, ok E Shelly Per forza, signori miei Shelly, il nostro Super Saiyan Scusatemi Non la miglioriamo Per forza Dai così Bravo Shelly Ok La prossima cassa Oh dai, ce la facciamo Ce la facciamo Con i doppi gettoni Se riusciamo A vincere un'altra partita Ce riusciamo a aprire la cassa grande, raga Dai, 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 dai Dai, 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 dai Veloce, 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 veloce Veloce, 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 veloce Che stiamo a fare? Ci siamo nascosti Ci siamo nascosti Devi morire Devi morire e mi devi lasciare la gemma Grazie, gentilissimo Perché mi sta sparando a me verso Yogi? Non ho capito perché Devi morire, devi morire, devi morire Devi morire, devi morire, devi morire Ok, raga Stiamo facendo incetta di gemme Questa cosa è ottima Evitiamo di morire nell'acido di quello lì Guarda che mi sta tirando tutto l'acido addosso Bastardo Però abbiamo regolato le gemme Grande, il mio compagno di squadra ha regolato tutte le gemme Grandissimo, grandissimo Ok, vai, 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 vai Stiamo in netto vantaggio Allora, quello lì mi sta sulle scatole pesantemente Ma proprio pesantemente Dove sei? Dai, 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 recuperiamo Perché l'hoccatore resting riesce a lanciarsi così? Sulla base di posa si lancia così l'hoccatore resting Guarda, guarda quello lì L'acido ci vuole fregare No, 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 bravo Recupera, bello Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Siamo al conto della rovescia, raga Siamo al conto della rovescia Siamo al conto della rovescia E sono morto io Ma porca miseria Eravamo al conto della rovescia, raga Sono morto io, mannaggia Dieci, siamo al conto della rovescia Bella così Dai, 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 dai Dai, 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 che siamo al conto della rovescia Tu devi morire, che sei di un antipatico unico Questa la recupero io Quanto meno una gemma me la porta a casa pure io E io sono morto Va bene, siamo 12 a 0, raga Basta che quella che ha 12 gemme si nasconda E non si facci trovare Dai, 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 nasconditi, nasconditi Partita conclusa Grande Siamo a partire da casa un'altra vittoria Bravissima la nostra Shelly Super Saiyan E invece partiamo a casa Uuuuuh, addirittura Siamo alliemo al grado 4 Con il nostro amico Little Tony Tanti bellissimi punti Vediamo se riusciamo a ottenere il prossimo pass Ah, le coppe vanno di là E i pass vanno di qua No, un'altra partita, raga Un'altra partita Dai, dai, eh Un'altra partita per noi Dai, 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 dai Subito, subito Partiamo da questa parte Va bene Andiamo di qua Andiamo di qua, andiamo di qua Seguiamo Seguiamo il Tu devi morire male Devi morire male E io mi recupero subito, subito La gemma Ok Sei in mezzo a 8 della nostra squadra Dico, non puoi sopravvivere Ok Via, 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 via Io devo recuperare un attimo di vita Devo recuperare un attimo di vita Che sono morto male Ok, ci siamo Tu devi morire pure male Ok Io c'ho due gemme Siamo 3 a 2 Cosa non è buona Devi morire male Mori, 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 mori Ok, recuperiamo un po' di vita Recupera, 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 recupera Io sono a corto di vita, raga Sono a corto di vita Ai, ai, ai Meglio che me ne vado Meglio che me ne vado C'ho più gemme di tutti E sono a corto di vita Recuperiamo un attimino di vita Ok Ora si torna in battaglia Si torna in battaglia Si torna in battaglia Bello così Ho 5 gemme Non so come faccio ad avere 5 gemme Siamo a 9 a 0 Dai, 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 dai Un attimo Ok, contro la rovescia, raga Contra la rovescia Non si scherza più Non si scherza più Contra la rovescia Dai, 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 dai Partiamoci a casa pure questa Partiamoci a casa pure questa Dai, dai, dai 8, 7 6 Dai, 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 dai Dai, 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 dai Perché mi spazio È finita No Pensavo che avessimo vinto, raga Ma forca di una paletta ambriaca Pensavo che avessimo vinto Pensavo che avessimo vinto 14 a 0 Dai Allora, dovremmo riuscire a vincere adesso Porca miseria Dai, 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 dai 1, 0 È finita Finita Questa volta è finita davvero Bella così 15 a 0, signore Porca miseria Il migliore sono stato io Spettacolo Grande Che cosa bellissima E saremo a livello 5 Con il Little Tony Non ce n'è per nessuno Non ce n'è per nessuno, signori miei Prendiamo tantissimi belli gettoni Bella così E ci riportiamo a casa Coppe per noi 128 coppe E possiamo andare per il prossimo pass Allora, andiamo al prossimo pass Signori miei Cassa enorme Apriamo la cassa enorme e chiudiamo questo video, raga Sì, scusami Speriamo che ci sia qualcosa di interessante 137 monete Ottimo Punti energia per Pocho Quante me ne dai? 8 Mi aspettavo un po' di più, sinceramente Punti energia per il nostro Super Saiyan 12 Va bene Ci sta Ci sta E punti energia per l'Orso Yogi 15 Che può migliorare Buono così Mi aspettavo dei punti energia per il nostro Little Tony Invece niente Non è stato gentile con noi Allora Andiamo da Brow Miglioriamo l'Orso Yogi Migliora Migliora Che sarà a livello 4 Il nostro Orso Yogi Bello così Livello 4 Livello 4 Colt è ancora a livello 1 E il messicano pazzo E a livello pure lui 4 Va bene ragazzoli Detto questo Io vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao